Ciao ragazzi, è un nuovo video, video Avon questo mese sono riuscita a inviare l'ordine non ci sono tantissimi prodotti però qualcosina c'è, qualcosina anche di nuovo e adesso vi mostro subito quello che c'è nel pacco ascoltate che me lo trascino qua allora, prima cosa punti Junior Platino che non ci interessa anche questo mi invito ad andare al Beauty Shop poi è un supplemento di campagna con i prodotti Enew, un'offerta 12,90 euro due prodotti, un fondotinta e un rossetto e qua un fondotinta no, cosa c'è qua? un'emolliente labbra e una una base togli che non ci vedo c'è un fogliettino che ecco, una base un primer poi cataloghi di campagna 7 questo qua e il catalogo di campagna 8 poi essendo che l'altro mese non ho cioè l'altra campagna non ho inviato l'ordine mi hanno inviato due anteprime quella di campagna 7 e quella di campagna 8 scusate l'anteprima di campagna 8 e l'anteprima di campagna 9 poi vabbè tutti i vari cataloghi che adesso togliamo ok e iniziamo con i prodotti mi sono arrivati uno due tre e quattro di questi detergenti intimi qui c'era l'offerta paghi uno prendi due quindi le mie clienti ne hanno approfittato poi prendiamo le cosine prese in anteprima così ve le faccio vedere ok sì ci sono che le ho prese appunto per me in anteprima allora due in uno shampoo e balsamo della linea natural che sapete che io adoro questo è alla violetta e viola selvatica ed estratto di semi d'uva per capelli opachi quindi spenti poi ho preso un olio spray della planet spa questo qua guardate che bellissimo blu è appunto un olio spray per il corpo ha i frangipani e citronella io l'ho preso appunto per la citronella essendo che comunque ci sono le tanzare io sono già stata in una notte stata mangiata ho detto prima di andare a dormire questo la sera o prima di uscire va benissimo con lo spruzzo poi ho preso questo qui che è un trattamento a caldo idratante per i capelli poi ho preso che queste sono finite in mano a mio nipote perché lui quando arriva al pacco deve sempre aprirmelo e quindi si sono rotte comunque sono gli sticker nail art io ho preso questi qua leopardati sapete che io ho una pizza per il leopardato e ho preso questi qua e li proverò e vi farò sapere poi ultima cosa di anche prima ho preso questa pettine piastra lisciante in cui mentre si si usa questa spazzola mentre si asciuga i capelli e gli fa venire belli lisci lo ho venuto a provare poi sono arrivati uno due tre spray profumati per il corpo due ai fiori di ciliegio e uno all'albicocca poi oh no scusate ma ce ne deve essere uno che perde forse sono io che ho le mani sono tutti chiusi sarò io che ho vabbè che da reggio poi mi sono arrivati due shampoo due in uno all'albicocca sapete che io adoro e quindi consigliando a forza di consigliarli me li hanno acquistati poi una lozione per il corpo sempre all'albicocca poi due sieri all'olio d'argan del marocco questi qua che sono anch'essi fantastici poi questa è una maschera una maschera purificante per il viso ai sani minerali del marmorto questa è la nuova linea planet spa cioè la nuova linea il nuovo packaging della planet spa vedete molto più carino di come era prima poi ultimo prodotto come vi ho detto ce ne sono pochi questa lozione per il corpo all'anguria che è fantastica veramente molto 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 buona e poi vabbè c'è la pattura e dei campioncini del profumo rare gold ne ho a valanghe di questo profumo perché alle mie clienti non piace ho solo questi campioncini praticamente non li voglio rare gold non mi piace vabbè niente questi erano appunto i prodotti e io adesso vado subitissimo a provare gli stickers così vi so dire al più presto come sono quindi niente poi vabbè andrò a fare i video sui cataloghi e sulle anteprime niente vi mando un super bacione come sempre e ci vediamo al prossimo video ciao ciao